Presidente, allora partiamo dal novantunesimo, l'abbiamo vista parlare per diversi minuti con Arriedo Braida, motivo della chiacchierata Ceravolo? No, no, motivo della chiacchierata è il grande rapporto di amicizia che abbiamo e ogni volta ci vediamo ci dilunghiamo anche troppo, ma non abbiamo assolutamente parlato di mercato. La trattativa per Ceravolo? Non c'è nessuna trattativa per Ceravolo. Presidente, poi parleremo un attimo di mercato verso la fine, parliamo invece di questa partita, una brutta sconfitta in uno scontro diretto, l'ennesimo di questa parte di campionato, discreto primo tempo del Pescara, ma nella ripresa la prestazione è stata negativa. Non c'è stato un approccio, a nostro avviso, come c'era stato nel primo tempo della squadra in avvio di ripresa? Probabilmente il primo tempo ci è un po' ingannati, ci è un po' illusi, perché nel primo tempo obiettivamente non abbiamo rischiato nulla, dovevamo avere un rigore su se terre che era grande come una casa, non ci è stato dato, poi rientri in campo probabilmente abbassi un po' l'intensità, l'attenzione e abbiamo regalato due gol veramente da polli, ma proprio da polli veri. Proprio in generale nel secondo tempo la squadra non è riuscita a proporre granché né sul piano del gioco né sul piano delle occasioni rispetto al primo tempo, secondo lei come mai? Se non metti la giusta attenzione, l'intensità giusta in tutti e due i tempi, le partite durano 95 minuti, non ci sono partite che durano un tempo, quindi se non abbiamo la contezza di questo fatto probabilmente ci creiamo dei problemi, ci creeremo dei problemi sempre. Lo abbiamo fatto a Reggio Emilia giocando addirittura negli ultimi 5 minuti in 9, oggi invece in parità numerica in secondo tempo forse abbiamo pensato che la partita fosse già finita, così non vai da nessuna parte, quindi abbiamo fatto un passo indietro sicuramente rispetto all'ultima partita. Secondo lei Presidente la sconfitta di oggi è figlia delle tante tantissime essenze in difesa o ci sono delle altre motivazioni? No, ma sicuramente avete visto tutta la formazione rimaneggiata, abbiamo fatto giocare Masciangelo che pure in settimana forse si è allenato una volta sola, là dietro abbiamo dovuto mettere Valdifiori centrale, purtroppo le assenze pesano però non deve essere un alibi perché poi se andiamo a vedere alla fine non è che hanno fatto così male quelle che hanno dovuto giocare in posti che non erano i loro, per cui non bisogna cercare alibi, bisogna metterci di più e se i giocatori non capiscono questo, se non possiamo abbassare la guardia, vinciamo una partita, ci facciamo belli e poi ci addormentiamo, non è questo il modo di giocare in Serie B, così in Serie B puoi perdere veramente tutte le partite. Ne faccio due nomi Presidente, Galano e Macin, abbiamo visto un Galano un po' svogliato, tra virgolette, un po' svagato e abbiamo visto invece un Macin che quando è entrato in campo ha avuto un buon approccio nella gara, si è subito proposto con generosità, insomma due facce di una stessa medaglia. Adesso fare le critiche su questo o quell'altro giocatore a me non piace. Non è più il Galano che eravamo abituati a vedere, non da oggi Presidente, non so se è d'accordo con noi, senza gettare la croce addosso su Galano. Galano ha fatto delle bellissime partite, nelle ultime, oggi certo probabilmente aveva qualche problema, oggi non è stato il Galano sicuramente migliore, però non bisogna gettare la croce addosso a questo o a quel giocatore, io credo che quando si vince si vince in 11, quando si perde si perde in 11 ugualmente, e quindi la colpa è di tutti. Presidente, il calendario ora propone due trasferte al Pescara, due gare difficili, Salerno prima e Verona poi con il Chievo. Bisogna cercare di cambiare marcia anche perché questa squadra nelle ultime giornate ha dimostrato forse di trovarsi più a suo agio nelle gare in trasferta. Non è una questione di trasferta o di gare casalinghe, questa squadra si trova a suo agio quando ci mette l'impegno, quando ci mette veramente il cuore, il campo, quando ci mette tutto quello che hanno per 95 minuti. Quando poi si cerca di, quando si vuole fare la partita, la Serie B è questa, bisogna anche fare delle partite sporche, dove magari all'ultimo minuto fai gol e porti a casa i tre punti, come è successo a Reggio Emilia, è una partita soffertissima, per cui voglio dire, se non si gioca con quel piglio lì si fa fatica con tutti. Presidente, chiudiamo con il mercato, le ha detto che Ceravolo non è un obiettivo del Pescara, Sorensen nelle prossime ore dovrebbe invece diventare un giocatore del Pescara. Diciamo che abbiamo un accordo di massima col suo procuratore, quindi vediamo tra domani e martedì se di poterla chiudere, perché è un giocatore con delle caratteristiche che a noi ci completa il reparto. Per quanto riguarda l'attacco, lei diceva che Ceravolo non c'è nessuna trattativa, e che cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa? Non è cambiato assolutamente nulla, perché come dicevo, ci sono degli attaccanti che probabilmente sono in movimento, Ceravolo è uno di questi e quindi viene accostato a quelle società che hanno bisogno di fare l'attaccante, ma io personalmente non ho mai parlato con il procuratore di Ceravolo, che si credo, mi diceva qualche tuo collega, che ha chiarito il fatto che Ceravolo al 99% non diventa giocatore del Pescara, ma obiettivamente io al procuratore di Ceravolo non gliel'ho mai chiesto, quindi non lo so perché si è affrettato a chiarire questa situazione e non credo che sia obiettivamente neanche il profilo quello che serve a noi, quindi noi stiamo lavorando su delle situazioni e vedremo nei prossimi giorni. La Mantia e Montalto sono invece due nomi ancora validi per l'attacco del Pescara, Presidente? Io non credo che la Mantia sia sul mercato, non credo proprio che l'Empoli metta la Mantia sul mercato, Montalto è un giocatore del Bari, sta facendo anche molto bene a Bari, quindi noi abbiamo comunque un'idea nostra, nei prossimi giorni vedremo di chiudere qualcosa di quello che pensiamo noi. L'ultimissima Presidente, prima di ringraziarla, voi credete ancora su Asensio, sulla sua ripresa da un punto di vista fisico, parlando di attacco? E' certo che ci crediamo, crediamo in Asensio, crediamo in Zeter, crediamo in tutti i giocatori che abbiamo, ci mancherebbe. Asensio è appena ritornato, in settimana si aggregherà al gruppo, quindi comincerà a lavorare col gruppo e a tutti gli effetti è un giocatore del Pescara, è un giocatore dal quale noi ci aspettiamo molto.